Buongiorno, buongiorno signora, allora guardi avrei bisogno di uno zaino per mia figlia, la scuola media, le do uno zaino ottimo, noi siamo Seven Point autorizzati, quindi da noi puoi trovare tutti i design della collezione Seven, tipo questo, ah perfetto va benissimo, allora questo me lo mette da parte, poi avrei bisogno di evidenziatori, della Stabilo, ovviamente, della Stabilo, certo, tutti colori, benissimo, poi avrei bisogno di tre quaderni, commetto che sua figlia piace la linea tinta unita, è quella che piace a tutti, adulti, bambini, perché insomma vai sul sicuro, perfetto, va benissimo, poi rigorosamente colori G8, assolutamente, prego, Poi dimenticavo, la cosa più importante, anche i libri di scuola, insomma avete anche quelli per le scuole medie, certo, come puoi vedere siamo autorizzati a vendere tutti i libri di scuola media, elementare, anche delle scuole superiori, benissimo, quindi sono proprio nell'emozio giusto, benissimo, ma c'è anche la possibilità di fare i biglietti per il pullman? Certo, noi vendiamo i biglietti amtab, anche delle autoline fal, ah benissimo, ah ok, ma avete anche riviste? Tutto signora, ma anche in edicola, certo, così magari mentre vi ha da sua figlia può anche leggere qualcosa di interessante, perfetto, mi metto anche questa qui, ok, perfetto, allora mi faccio il totale, posso pagare con PostePay? Ma certo, può pagare con PostePay, ma ora che ci penso, mannaggia non ho fatto la ricarica, mi dica che si può fare qui? Sì signora, non ci sono problemi, può fare anche le ricariche PostePay da noi, no va bene, benissimo, sono veramente contenta di essere entrata in questo negozio, non me l'aspettavo, avete tanti servizi, complimenti! E se vuole comprare un gratta e vinci magari è il tuo giorno fortunato, quindi potrebbe anche compensare la spesa! Va benissimo, allora, ora devo scappare che devo andare alla posta e devo pagare un bollettino, mamma mia quante cose da fare! Signora, ma può farlo qui, può pagare i bollettini, può spedire sia con PostePay che con Nexiv, da noi? Benissimo! Noi abbiamo tutto! Proprio tutto? Tutto! Scommetto che voi non avete quello che sto cercando io! Cosa cerca lei? Io sto cercando un lavoro bello e redditizio! Sì che ce l'ho! Vuole diventare il nuovo proprietario di questa bellissima cartolibreria? Vediamo, parliamone! E voi non fatevi sfuggire questa opportunità lavorativa! Chiamate! 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 Chiamate!